Una vasta operazione antimafia è stata attuata nella provincia di Crotone dai carabinieri del comando provinciale per disarticolare il suo delizio criminale denominato locale di Ciro. In particolare sono stati impiegati 150 militari che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare emessa dalla GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di 31 persone. Nel dettaglio si tratta di 26 misure cautelari in carcere e 5 agli arresti domiciliari. I reati contestati a vario titolo sono associazione delinquere di tipo mafioso, estorsione e reati in materia di armi e di sostanze esplodenti, questi ultimi aggravati dal metodo mafioso. Gli arrestati sono stati rintracciati nei comuni di Ciro Marina, Ciro, Umbriatico, Nova Siri, Trieste e nel carcere di Catanzaro e Ancona dove due dei destinatari erano già detenuti per altri motivi.